Non è sfuggito all'occhio attento delle telecamere quello scambio sospetto tra uno spacciatore e un nordafricano. Ore 15 di lunedì Corso, Milano. Immediato l'intervento degli agenti della patuglia antidegrado della polizia locale. Del pusher non c'era più traccia, fermato e accompagnato al comando l'acquirente, un marocchino di 30 anni, regolare in Italia. L'uomo, che aveva poco meno di 10 grammi di marijuana, è stato segnalato alla prefettura come assuntore.